Invito all'obbedienza Figlia mia, il sangue preziosissimo di Gesù invita a praticare la virtù dell'obbedienza. Ecco, io vengo a fare la tua volontà, poteva egli dire fin dal primo istante del suo concepimento, e dopo aver trascorso nell'obbedienza tutta la vita, condotto come pecora al macello rimetteva il suo spirito al Padre sulla croce. La virtù dell'obbedienza è il sacrificio della volontà fatto per amore di Dio. Sacrificio che può significare talvolta un martirio quotidiano. Occorre obbedire alla legge di Dio, anche se la natura umana, ribelle, vorrebbe fare diversamente e si sente trascinata al male. Obedire per amore nelle piccole e nelle grandi cose con uguale impegno, rinnegando se stessi. Gesù stesso ha voluto esserci di esempio. Obbedì, infatti, a due creature fino all'età di trent'anni, riconoscendo in esse l'autorità paterna e materna. Obbedì alle leggi stabilite da Cesare e adempì i comandamenti e i precetti della religione. Obbedì soprattutto al Padre suo, la cui volontari cercò in ogni occasione. Anche tu sei chiamata ad obbedire alle leggi divine, alle leggi civili, alle leggi ecclesiastiche. Sei chiamata ad obbedire a chi ti è superiore per autorità o per missione. L'obbedienza ti libera da ogni responsabilità, ti facilita il bene e la pratica della virtù, ti rende come bambina nelle braccia del Padre. Ogni atto d'obbedienza, offerto per amore a Gesù, diventa partecipazione della sua offerta e assume un valore redentivo. Dirai, sangue di Gesù, immolato sulla croce nell'obbedienza più perfetta, rendici obbedienti.